Gina Lollobrigida, l'ex factotum Andrea Piazzolla difeso dal fratello in aula per i mancati alimenti al figlio. Luca Piazzolla spiega le difficoltà di Andrea per pagare gli alimenti, purtroppo non riesce a trovare lavoro da quando sono venuti alla luce i suoi processi. Dalla signora Gina Lollobrigida non ha mai preso un soldo. Gina Lollobrigida, continuano i guai dell'ex factotum Andrea Piazzolla. In tribunale per i mancati alimenti al figlio, il fratello Luca ha fatto emergere in aula tutti i problemi che starebbe vivendo. È stato in Sud America per circa una settimana lo scorso mese. Chi gli ha pagato il biglietto, non lo so. Andrea ha tante difficoltà economiche. Purtroppo, non riesce a trovare lavoro da quando sono venuti alla luce i suoi processi. Dalla signora Gina Lollobrigida non ha mai preso un soldo. Il fratello, Andrea, 36 anni, è a processo per non aver mai pagato i 300 euro disposti da una sentenza del tribunale per il mantenimento del figlio quindicenne, avuto da Sara Auriera. Il factotum della diva è già stato condannato a tre anni in primo grado per circonvenzione di incapace nei confronti dell'attrice. E ha anche un'altra figlia di tre anni cui deve badare? A mantenerla ci pensa la mamma, nonché compagna di mio fratello dice il fratello maggiore. Che aggiunge, Andrea non ha mai lavorato, essendo stato sempre al fianco della signora Gina Lollobrigida. Io e lui abbiamo provato ad avviare una società, ma quando è esploso il caso mediatico, purtroppo si sono subito chiuse tutte le occasioni. Andrea ha sempre vissuto a casa della Lollobrigida, ed è lei che si è occupata di tutto fin dal 2009. Almeno così mi ha raccontato Andrea. Con cui ho un ottimo rapporto. Da quando la Lollobrigida è venuta a mancare, mio fratello non riesce a mantenersi e viene aiutato dai nostri genitori. Sta cercando lavoro, ma le notizie sui processi gli rendono difficile trovare un'occupazione. Poco tempo fa è stato in Sud America, ospite da un amico. Non so come abbia pagato il biglietto aereo. Gina Lollobrigida. Colpo di scena. Il giudice acquisisce i testamenti della diva. Non ha preso soldi, non solo. Luca rivela. All'eredità della Lollobrigida ha rinunciato e non ha mai voluto soldi per le interviste fatte in televisione. Sì, lo so che ha due figli da mantenere. Ma queste sono le sue decisioni. Eredità di Gina Lollobrigida. Il figlio accusa. Mia madre depredata per anni, non aveva più di che pagarsi le cure. La villa. Nella villa dell'attrice si sono alternati il notario Vittorio Occorsio. Avvocati ed esperti per inventariare i beni utilia alla procedura concorsuale di liquidazione che precede il pagamento dei creditori. In dieci visite di tre ore ciascuna, iniziate a metà febbraio, sono stati recuperati oggetti per la maggior parte di valore modesto. Ne scrive il Corriere della Sera. In sala un pavimento rivestito da un mosaico decorato con volute ed elementi antropomorfi e zoomorfi e putti senza valore agli angoli della stanza. Servizi in porcellana. Tre visoni. Marmi che riecheggiano con scarso successo le impostazioni canoviane. Caspot senza valore apprezzabile e Buddha giovanili fra i quali uno ligno con inserti in vetro. 22 dipinti di mediocre qualità, lampadari in metallo con sfera in vetro copia dall'antico e un mobile dal valore di 5.000 euro. Poi le foto inedite, i premi alla carriera, gli abiti su misura, ma anche il copione d'attilo scritto dello sceneggiato inedito sui confi dal Castro e un diario new yorkese degli anni 60. Materiale che forse potrebbe ingolosire i collezionisti. Lo sfogo del figlio, ma certo, 600.000 euro di valore stimato, non è ciò che ci si attendeva da una delle icone italiane del cinema. Il figlio Melko Skofec si sfoga con il quotidiano di Via Solferino. Sono sbalordito che, al termine di una lunga e proficua vita artistica in cui aveva accumulato un ingente patrimonio, sia venuta a mancare da proprietaria di così poco. Basti pensare che sui conti correnti non c'era quasi nulla, al punto che all'amministratore di sostegno venne chiesto di saldare i conti delle cure dentali, per poche migliaia di euro. Ci sarebbe stata, per i PM che hanno indagato sul suo factotum Andrea Piazzolla, una lenta spoliazione dei beni. E Melko attacca, quando è arrivato Piazzolla il patrimonio di mia madre era più che buono, c'era abbastanza per fare una lunga vita decente, ricca, ma non esagerata. Ora non è rimasto quasi nulla. Non so dire la quantità esatta di quanto è stato bruciato, ma i conti correnti sono pressoché vuoti, gli appartamenti di piazza di Spagna sono stati venduti e il ricavato è sparito. E lo stesso è accaduto per la casa di Monte Carlo. Nessuna traccia nemmeno degli oltre 3 milioni di euro della collezione di gioielli venduta da Sotebi S nel 2013. Nel frattempo, i familiari di Piazzolla hanno ricevuto centinaia di migliaia di euro. Lui stesso ha prelevato decine di migliaia di euro in contanti e tramite carte di credito, ha viaggiato in elicottero, ha acquistato continuamente Ferrari, Jaguar, Mercedes. Non c'è da meravigliarsi che non sia rimasto più nulla. Mia madre era cambiata negli ultimi 10 anni, ricorda, la madre era cambiata, le hanno fatto credere che noi familiari eravamo contro di lei. Le hanno raccontato bugie. Distorto la realtà. Uno dopo l'altro sono stati allontanati anche gli amici storici che potevano aprirle gli occhi, fino a che è rimasta isolata, con un singolo interlocutore. Ricordo quando sono andato a trovare mia madre, che era appena tornata da un lungo viaggio a New York dove l'aveva accompagnata Piazzolla. Stavamo in cucina quando entra trionfante Piazzolla che dichiara in modo pomposo che è riuscito finalmente a farci fare pace, io e mia madre. L'ho guardato un po' stralunato, ma che stava dicendo? Non avevamo litigato, eravamo in buonissimi rapporti, stavamo sempre in contatto. Non ho dato importanza a questo strano episodio, ma invece avrei dovuto subito capire le intenzioni di Piazzolla. Mia madre ormai era diventata più fragile di prima, per cui molto influenzabile e facile vittima. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.